Durante le festività natalizie il terrore di affrontare la bilancia aumenta. Le occasioni aggreganti a base di cibo poco salutare sono numerose. E oggi ti offrirò tre suggerimenti per cavartela al meglio. Ciao, sono Fabio e sono un personal trainer. Lavoro e vivo a Catania. Alleno uomini e donne che vogliono tornare in forma e hanno poco tempo disponibile, incontrandoli due volte alla settimana per un'ora. Dal 2003 offro a Catania il mio servizio di personal training e anche quest'anno, come precedenti, percepisco su tante persone la paura di ingrassare o di aumentare il peso corporeo. In occasione delle numerose riunioni con amici e parenti per le festività natalizie e per il Capodanno. Tre suggerimenti per affrontare al meglio questo periodo. Suggerimento numero uno, se già ti alleni, non mollare adesso. C'è un'errata associazione che lega festività ed eccezioni con il cibo con l'abbandonare gli allenamenti e riprenderli dopo le feste. Il periodo più importante per non mollare gli allenamenti e aumentare l'intensità, invece, è proprio questo. Suggerimento numero due, se non ti alleni, il momento giusto per iniziare è adesso. Anche in questo caso c'è un'errata associazione che induce chi non si allena a rimandare dopo le feste. Perché? Se devi affrontare un periodo ad alto dosaggio calorico, il momento giusto per iniziare è adesso. Sai qual è il vero problema? Non inizierai dopo le feste. Rimanderai a febbraio e poi a marzo. E ti ritroverai a maggio a dire, ormai, inizio dopo l'estate. Suggerimento numero tre, goditi il cibo e la buona compagnia, circoscritto nei giorni in cui hai feste e ritrovi. Nei giorni precedenti e successivi rispetta semplicemente le tue migliori abitudini con l'alimentazione. Il vero problema è avere gli sportelli della cucina pieni di panettoni fino a febbraio. Non sarà di certo deleterio uno o più pasti tra Natale e Capodanno. Come è uscita un famoso proverbio, non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma da Capodanno a Natale. Se vivi o lavori a Catania, contattami e pronota una consulenza gratuita e senza impegno alcuno, per valutare insieme i tuoi obiettivi. Ciao e al prossimo video!